Maria Tocca Revisora 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 Bene! Forse tra un po' sono sulla schiena, ma vediamo. allora mi sento molto fortunata che potevo crescere in mezzo alla natura molto molto libera non c'era mai nessuno che mi diceva non fare questo, non fare quell'altro non sporcarti, non farti male o non andare nel bosco perché lì c'è qualcosa di pericoloso quindi potevo tutto l'anno godermi di questa bellezza della natura perché non c'era una stagione che preferivo era sempre qualcosa da vedere fuori la natura mi coccolava con le sue meraviglie con i profumi, con i suoni con quello che vedevo e quello che toccavo chissà i bambini di oggi, quelli super tecnologici, se hanno la stessa fortuna di me di crescere in un ambiente così meraviglioso la spensieratezza forse è una delle cose più importanti che i genitori possono regalare ai loro figli e io sono convinta che solo la crescita nella natura può far crescere veramente bene un bambino e per questo io mi ricordo molto bene quando questa mia libertà e questa mia spensieratezza da un giorno all'altro ha preso un pugno in faccia avevo 12 anni e il mio corpo mi faceva vedere dei forti limiti per dei per grossi dolori che avevo nella schiena e nella ginocchia e dall'ora in poi questi dolori erano i miei compagni di vita ma io non pensavo mai a molare perché non esisteva che la Tamara è debole mai non avevo mai pausa di questo dolore e a volte era veramente difficile vivevo dei momenti molto di gioia però allo stesso momento poi mi buttava dentro in depressioni fortissimi però non pensavo mai a rallentare o a dare un stop a allenamenti duri e anche gare nonostante che mentre lo facevo a volte piangevo ma per me esisteva solo la prestazione come vedete la maggior parte della mia vita ero bandata e forse questo era proprio il mio modo per mascherare un po' le mie debolezze non le volevo vedere ormai faceva parte di me sembrava quasi che dovevo punire il mio corpo perché mi faceva sempre così tanto male eh sì e poi nonostante tutto questo male ma andavo sempre oltre 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 non potevo fermarmi e così ho cominciato a fare le gare di scialpinismo senza saper sciare che alla fine mi ha comunque portato a vincere un mondiale under 23 e poi ho cominciato anche gli 8000 senza essere stato prima sopra i 4000 e qui si vede una bellissima fanciulla come vedete si capisce veramente che gli 8000 erano il mio sogno facevo tutto e di più per andare là e così ero molto felice che nel 2014 avevo la fortuna di poter andare al K2 questa è una foto del campo base e vedete che non stavo molto bene ero spinta da un dolore molto strano che era la pena d'amore e oltre quello avevo altri dolori come vedete qua mi sono gonfiata come un palone forse a causa di un'allergia dal sole non si sa però gonfia dappertutto allergia che mi graffiavo fino al sanguinare avevo anche una tendinite al tendine d'achille però sempre avanti sempre avanti non molavo mai e così dopo due mesi di fatica di sacrificio di dolori eccetera sono comunque riuscita ad andare in cima al K2 lì dove avevo la fortuna di essere tra le poche donne che sono riuscite a farlo senza ossigeno e tra quelle anche la più giovane non bastava l'arco già 20 giorni dopo volevo fare o ho fatto con la mia compagna di gara una gara di corsa la Transalpine Run dove abbiamo attraversato le Alpi da nord a sud facendo più di 250 250 chilometri e più di 16.000 metri di dislivello abbiamo vinto anche questa però poi non vi dico come ero messa mi hanno ricoverata nell'ospedale dieci giorni di ossigeno causa polmonite ma neanche dopo tutto questo mi bastavo ancora e dovevo ancora andare oltre e così mi sono secondo me messa nell'apice della sofferenza che sono gli 8.000 d'inverno dove sei tu nel tuo piccolo team in solitudine nel freddo e spesso guardi anche negli occhi della morte sì le spedizioni d'inverno sono veramente ancora un passo di più e io non volevo mai essere vista come come alpinista al femminile non non volevo mai sentirmi dire la donna perché per me non aveva importanza e lo so è molto brutto però io non ero mai o non potevo mai essere orgogliosa di essere una donna io mi definivo attraverso la prestazione e non il genere e così mi mancava ogni forma di equilibrio e tutto quello che alla fine magari mi poteva regalare ancora qualcosa di equilibrio o di qualcosa di simile l'ho semplicemente eliminato l'ho messo in un cassetto e l'ho nascosto nel profondo di me stessa e così tutto quello che io naturalmente libera che poteva regalarmi un po' di questa libertà mi sono proprio uccisa seguendo solo questa unica via e non c'era altro dovevo imparare ancora tantissimo e anche questa spedizione che abbiamo fatto insieme a Simone Moro d'inverno 2019 2020 mi ha insegnato tantissimo sono arrivata a casa con una mano che non aveva più sensibilità ero molto delusa ma allo stesso momento dovevo anche essere felice di essere ancora in vita perché poteva essere molto peggio potevo anche non ritornare più poi sono andata dal mio amico Fabiano un guru quello che mi mette sempre un po' a posto vado lì da lui e aveva lì una sua amica lei altrettanto speciale lui mi tratta sul suo lettino e la sua amica semplicemente mi guarda e mi dice sei un uomo sei completamente un uomo e io ho detto ok e dopo un po' che mi guardava ancora mi diceva e se tu non riesci ad apprezzare la tua energia femminile ti do ancora un anno di vita io sono andata a casa a battuta e ho pensato adesso devo riflettere un po' e in effetti in questa spedizione se lo analizzavo bene ero come una macchina come un robot che guardava solo i 500 metri di dislivello che siamo riusciti a fare in 18 giorni e che secondo me dovevano essere molto di più però perché lo vedete là era un labirinto infinito senza limiti e abbiamo veramente fatto fatica dopo questo sono sì andata a casa e mi è arrivata la seconda sberla ma questa sberla ci è arrivata a tutti noi era il lockdown stop a tutto e mi sono chiesta ma cosa mai mi ha fatto stare ferma e adesso cosa faccio come mi comporto mi faccio abbattere o provo a vedere il bicchiere mezzo pieno quando si trattava di una sfida fisica non avevo mai problemi volevo e potevo affrontare qualsiasi cosa ma se si trattava di qualcosa di mentale avevo sempre una super scusa che era eh io sono così e quindi mi chiedevo dove posso cominciare forse era ora di riconnettermi un po' con questa natura genuina pura che già da bambina mi faceva stare così bene così felice così solare e sorridente e anche spensierata e forse la prossima l'altra cosa era di fare qualcosa per le altre persone e non guardare solo a me e così avevo un po' trovato la soluzione allora ho fatto meditazione nel bosco attorno a casa e ho fatto le lezioni online sui miei social con la mia community e lì devo dire che la tecnologia non era neanche così male dopo tutto questo una volta che eravamo liberi ho detto ok adesso faccio un viaggio col mio camper mi godo la mia libertà e sono partita per fare la cima più alta di ogni regione d'Italia ma non solo quello volevo anche incontrare tutta questa bella gente che si è allenata con me durante il lockdown e potete immaginare per me era incredibilmente bello di scoprire da alto a tesina tutta l'Italia ed era altrettanto bello di capire che anche facendo semplicemente mille metri di dislivello anche se non è un un gran che una una grande prestazione ma a me dava una gioia incredibile 82 giorni ero in giro a camminare a scalare a pedalare a volare col parapendio proprio come l'avrebbe fatto la Tamara da bambina curiosa esploratrice e molto molto felice di ogni imprevedibile che capitava lo vedevo come il regalo più bello e forse anche per quello un semplice brindisi con la gente anziana di un posto spopolato sotto ai piedi del monte Gorzano 2458 metri che non è una grande montagna ma mi ha fatto emozionare mi hanno aspettato giù io sono venuta giù col parapendio e mi hanno accolto tutti quanti insieme e mi hanno festeggiato ecco forse per la prima volta nella mia vita dopo il mio essere bambina ero capace di accettare questo amore materno che la natura mi dava e questo era possibile perché io ero di nuovo capace di aprirmi verso di lei amandomi e facendo le cose con amore senza pensare troppo a obiettivi a record o a prestazione se ci vogliamo fare qualcosa di buono e di prezioso allora forse ci dobbiamo regalare di vivere un po' nella natura e di respirare insieme a lei perché dalla natura deriviamo e un giorno purtroppo dobbiamo tutti quanti ritornare di nuovo da lei quindi la natura per me non è semplicemente un posto da visitare occasionalmente o un parco giochi come io lo pensavo che fosse per tanti anni ma la natura è proprio casa nostra è abbraccio è amore e siamo tutti noi grazie mille grazie mille grazie mille